Ciao, questo video è dedicato a tutti quegli esseri umani che almeno una volta nell'essere artisti si sono sentiti incompresi, non si sono sentiti valorizzati né da loro stessi e soprattutto dal mondo che avevano intorno. Io sono Andrea Felici, sicuramente mi avrei conosciuto come cofondatore insieme a Marco Cascianelli del movimento Satori Rendersi Conto, mi conoscerai probabilmente come ideatore del metodo Satori Art Experience e soprattutto probabilmente mi conoscerai come la persona che sta cercando di creare e la creerà una community importantissima che sarà dedicata proprio a tutte quelle persone, quegli esseri umani che nel mondo artistico si sono sentite incomprese e non si sono sentite valorizzate. Questo lo faccio perché anch'io come te sono un artista a vario titolo, sono una persona che ama la creatività, che ama la musica, che ama tutta la possibilità di poter creare e ho pensato bene che bisognava dare una voce a tutte queste persone straordinarie che rimangono nel sottobosco della società. Bene, quindi creeremo una community che andrà a tutelare gli artisti di qualunque tipologia siano, che li accompagnerà in un percorso, un percorso dedicato alla creatività dove potranno imparare a diventare anche imprenditori di loro stessi, cercare quindi di trasformare la loro arte non solo in qualcosa che abbia a che fare con una passione e con un hobby, ma soprattutto in qualcosa che possa diventare un lavoro, che possa diventare un autosostentamento. bene, lo faremo in tanti e se ci sarai anche tu, ovviamente saremmo di più e quindi è proprio per te questo video. E prima di salutarci ricordati di fare una cosa importante, scarica e visualizza il video che trovi qua sotto, che sta diventando virale, sta diventando proprio un inno degli artisti incompresi, dove troverai raccontate delle situazioni che sicuramente hai vissuto anche tu. E soprattutto ricordati la cosa più importante, la tua arte è immortale come i tuoi sogni. Ciao, ci vediamo presto. Ciao.